Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione dal Veneto. Tornano leggermente a salire i numeri della Covid in Veneto, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 745, cala invece il numero dei decessi, 4 in meno di ieri le vittime, anche se il numero resta sempre elevato, parliamo di 12 morti nelle ultime 24 ore. I ricoverati all'ospedale sono in totale 1336, 28 in meno del bollettino precedente, 1163 pazienti si trovano in area Covid e 173 in terapia intensiva. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, nel punto stampa di oggi ha detto che il calo del contagio in Veneto questa volta sarà più lento rispetto alle ondate precedenti. Intanto ha spiegato anche che le vaccinazioni stanno proseguendo, nelle ultime 24 ore sono state somministrate oltre 41 mila dosi. Prima si prenota meglio è, ha detto il presidente, da oggi inoltre non basterà più il codice fiscale per prenotarsi, ricordiamo sempre attraverso il portale internet della regione Veneto, ma bisognerà scrivere anche le ultime 6 cifre della tessera sanitaria. Questa mattina, ha detto Zaia, avevamo 190 mila vaccini disponibili, 29 mila dosi di Moderna dovrebbero arrivare entro la giornata di domani. E adesso parliamo di un'operazione di polizia, operazione Polo, è stato catturato in Marocco Bomber, dovrà scontare 5 anni di carcere. Sentiamo i dettagli. Sarà estradato in Italia e dovrà scontare 5 anni di carcere Bomber, un marocchino di 45 anni ricercato in campo internazionale. La Polizia di Stato lo ha rintracciato e tratto in arresto nel suo paese. L'attività di ricerca e cattura si è conclusa grazie alle preziosi informazioni scaturite dagli accertamenti effettuati dai poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile della Questura di Padova. L'operazione ha visto il supporto del servizio per la cooperazione internazionale di Polizia di Roma. L'uomo era destinatario di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Venezia in relazione a una pena residua di 5 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. È stato ancora di recente interessato dalle indagini svolte dalla squadra mobile di Padova sotto la direzione della locale Procura della Repubblica nell'ambito dell'operazione denominata Polo, che lo ha visto destinatario lo scorso 25 febbraio di una misura cautelare in carcere. 14 in tutti gli indagati, di cui 9 destinatari di misure cautelari. Bomber è accusato di aver gestito in questa circostanza un traffico di ingenti quantitativi di droga, soprattutto eroina e in misura minore cocaina. E a Padova è stato arrestato per spaccio di droga anche un minorenne, un sedicenne libanese. Il giovane, alla vista di una pattuglia della polizia, ha cambiato repentinamente senso di marcia, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti sul sagrato della chiesa di San Gregorio. Con sé aveva della cocaina in sasso per 5,07 grammi. Accompagnato in questura, il sedicenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, nonostante fosse incensurato. Il minore ha dimostrato un indole particolarmente incline a delinquere, tanto che quando è stato bloccato per sfuggire al controllo ha cercato di inghiottire la cocaina, a gesto che gli è stato impedito dagli agenti, oltre ad essere stato trovato in possesso di 1.240 euro suddivise in banconote di vario taglio, provento di probabile attività di spaccio. Come disposto dal pubblico ministero di turno, il minore è stato condotto presso il carcere minorile di Treviso. A Padova, in funzione tra un mese e mezzo, il nuovo sistema di infomobilità cittadino, con pannelli a messaggio variabile. Scopriamo di che cosa si tratta. A Padova, in funzione tra un mese e mezzo, il nuovo sistema di infomobilità cittadino, con pannelli a messaggio variabile. Si tratta di un innovativo sistema di infomobilità che ha l'obiettivo di migliorare la distribuzione dei flussi di traffico, specie in ingresso in città, promuovere l'uso dei parcheggi scambiatori ai capolinea del tram e migliorare le informazioni agli utenti di parcheggi e mezzi pubblici. Il sistema comprende 10 pannelli a messaggio variabile, due sistemi di calcolo automatico dei posti liberi e i parcheggi scambiatori Guizza e Ponte Vigo d'Arzere, un servizio di calcolo del tempo di percorrenza su 20 itinerari predefiniti, scelti tra quelli principali di spostamento in città e un cervellone centrale che ha il compito di raccogliere dati in tempo reale, elaborare i dati, determinare scenari di traffico e gestire i pannelli. I pannelli a messaggio variabile, che sono di due tipologie, sono in corso di installazione lungo le tangenziali esterne e lungo alcune principali direttrici di traffico cittadine. Poco dopo le 12 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti sulle colline nei pressi di via Monte Goggio a Breganze, in provincia di Vicenza, per il rovesciamento di un trattore ferito un agricoltore. L'uomo era alla guida del mezzo che improvvisamente si è capovolto, è rimasto bloccato all'interno della cabina e ferito ad un arto. Sul posto i vigili del fuoco lo hanno messo in sicurezza e sono riusciti ovviamente a portarlo all'esterno, mentre i sanitari si sono presi cura di lui e lo hanno trasportato all'ospedale. Giovedì 6 maggio a Piove di Sacco, domani in provincia di Padova, si celebra la 391esima festa del voto, una cerimonia che pensate si svolge dal 1631. A causa delle limitazioni del Covid non sarà presente la cittadinanza, ma sarà possibile seguire l'intera cerimonia attraverso la nostra rete. Scopriamo qualcosa di più su questa giornata. Giovedì 6 maggio a Piove di Sacco, in provincia di Padova, si celebra la 391esima festa del voto. A causa delle limitazioni dovute al Covid-19, la tradizionale processione del voto quest'anno non potrà accogliere la partecipazione dei cittadini. Il corteo sarà composto solo dal sindaco e dagli amministratori di Piove di Sacco, con il parroco. L'intera processione e la cerimonia religiosa presso il santuario della Madonna delle Grazie saranno trasmessi in diretta su Telecittà Canale 73 e visibile anche attraverso i canali social collegati alla rete. La celebrazione si svolge ogni anno come voto alla Madonna per la liberazione del territorio dalla peste. Durante la pestilenza, il 27 aprile 1631, si radunò il Consiglio per prendere provvedimenti a cominciare dalla richiesta di aiuto a Dio onipotente in forma pubblica e solenne con l'invocazione del patrocinio della Beata Vergine. Il Consiglio stabilì in quella seduta che ogni anno dovesse avvenire una processione a santuario a cui dovesse partecipare il Podestà, il Sindaco e il Consiglio, il Clero e le Confraternite, e che ognuno dovesse offrire un cero e assistere alla messa solenne. Dal 1631 l'impegno è saltato solo quattro volte, in epoca napoleonica, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'anno scorso e quest'anno a causa del Covid, senza la presenza della cittadinanza, con una processione svolta in forma ristretta, ma visibile attraverso la TV. L'immagine della Madonna con il bambino è ritenuta fonte di miracoli. Incidente stradale all'ora di pranzo, oggi erano circa le 13, nel comune di Battaglia Terma, in provincia di Padova, un auto articolato carico di archi di cemento armato è uscito di strada. Il mezzo è parzialmente finito fuori stata e ha bloccato completamente la circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autogru, hanno lavorato per circa due ore, riuscendo a riposizionare il mezzo sulla strada che poi ha ripreso la circolazione. A Padova, nel corso di un controllo di polizia in via Chiesa Vecchia, è stato trovato un casolare disabitato in completo stato di degrado e sporcizia, nel quale vivevano abusivamente tre uomini, tre cittadini rumeni senza fissa dimora che ora sono indagati. L'area è stata messa in sicurezza, è stato contattato il proprietario ed è stata bonificata definitivamente tutta la struttura. Parliamo degli aiuti umanitari in Croazia. La quinta spedizione dei volontari è stata portata a termine. Allora sentiamo com'è la situazione e cosa si può ancora fare per contribuire e portare aiuto a moltissime famiglie che ancora sono sfollate. La quinta spedizione dei volontari di Scientology italiani in Croazia si sta concludendo con soddisfazione per i progressi notati sul territorio della contea di Sisak Moslovina. Da mesi questi volontari sono impegnati a portare aiuti nelle aree colpite dal terremoto che ha lasciato migliaia di sfollati. Sono stati consegnati cibo a lunga conservazione, elettrodomestici, materiali edili, agricoli, sementi e oltre mille piantine da orto, il tutto personalmente ad oltre 30 famiglie dislocate tra i boschi di Glina e Petrigna. Oltre ad aver contribuito all'emergenza iniziata il 29 dicembre 2020, i volontari di volta in volta hanno procurato i materiali più necessari per far fronte alle specifiche necessità dovute al clima e alle strutture mobili che venivano consegnate alle famiglie oltre che all'abbigliamento e al cibo. Ed ora che finalmente è iniziata la bella stagione hanno provveduto con aiuti per contribuire alla ripresa con materiale ortofrutticolo. Ad oggi hanno potuto osservare che la situazione sta leggermente migliorando per le famiglie che pur vivendo nelle difficoltà del disastro grazie ai sostegni degli amministratori e aiuti umanitari stanno affrontando il difficile momento cercando di rialzarsi grazie al lavoro che possono svolgere nei campi e nelle fattorie per implementare il sostentamento. È stato anche importante notare che alcune famiglie hanno ricevuto delle case in legno che stanno già abitando e questo è uno dei passi importanti per fornire reali abitazioni in tempi utili. La maggior parte delle strutture dovranno essere abbattute ma questo tipo di intervento verrà attuato dal Governo. Guardando ad un prossimo futuro gli aiuti che servono sono alimenti a lunga conservazione e forniture d'arredamento di base per coloro che stanno ottenendo le prime unità abitative. Il processo è lungo e tanto sta venendo realizzato da associazioni locali e nonna che raccolgono fondi e donano le strutture. Le operazioni di raccolta proseguono. La prossima spedizione è prevista a fine maggio. Per informazioni potete contattare direttamente il responsabile dei volontari Ettore Botter al numero che vedete in sovraimpressione 348 33 32 499. Ed ora diamo uno sguardo alle condizioni climatiche. Fino a venerdì il Veneto sarà lambito dalla parte più meridionale di una depressione con nucleo sull'Europa settentrionale. Si alterneranno nuvole e rasserenamenti a tratti delle piogge più probabilmente su zone montane e pedemontane durante le ore pomeridiane. Nel fine settimana cielo sereno poco nuvoloso per condizioni nettamente anticicloniche. Si chiude qui lo spazio dedicato alla Tg regionale. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Tra poco l'informazione nazionale a cura di Italpress 24. Vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.